Sicuramente interverremo in maniera forte e concreta per riportare Ponte d'Era alla sicurezza e la legalità. Ponte d'Era è sulle cronache tutti i giorni purtroppo per i continui furti, per le continue situazioni di disagio e di degrado. Questo è dovuto a una scarsa attenzione da parte dell'amministrazione Millozzi e Franconi che fino ad oggi hanno amministrato male questa città. Noi interverremo in maniera molto forte e decisa come andando a aumentare l'organico della pulizia municipale di circa 10 unità. Attualmente la pulizia municipale è sotto organico di questo numero su un organico totale di 19 unità. Quindi percentualmente siamo veramente un sotto organico troppo elevato e non riesce a superire a tutte le richieste e a tutte le necessità per poter riportare veramente una città a essere sicura. Noi interverremo subito su quello aumentando l'organico andando a inserire all'interno della stazione una piccola sede di staccata della pulizia municipale che possa fare da presidio di legalità e possa fare controlli nel quartiere stazione e nel quartiere del villaggio e contemporaneamente anche nelle frazioni perché a differenza dell'amministrazione uscente per noi i cittadini delle frazioni non sono cittadini di serie B ma sono cittadini di serie A e quindi inseriremo anche una stazione della pulizia municipale, una piccola sede di staccata alla rotta dove prima c'era addirittura la stazione dei carabinieri. Questo perché è fondamentale. In centro gli esercizi commerciali subiscono continuamente i furti e nelle frazioni gli appartamenti vengono continuamente svaligiati. Insieme all'aumento della pulizia municipale interverremo inserendo telecamere nei punti fondamentali e focali di accesso e uscita dalle frazioni e dai quartieri in maniera tale che con le telecamere intelligenti si possa vedere subito se c'è stato in caso di furto qual è il flusso di auto che escano e così da poter individuare subito e immediatamente i malviventi. Sì, mi viene subito in mente l'ex IPSIA ma anche sempre lo stabile che è presente in piazza Andrea da Ponte d'Era o piazza Velfiore per i pontaderesi. Queste sono due aree che danno l'immagine del degrado, di un degrado che non va bene per la città e che sicuramente noi vorremmo far ritornare a nascere. Sull'IPSIA attiveremo subito un tavolo di lavoro con la provincia per poter riqualificare immediatamente l'area. Sto pensando a poter andare a inserire, a riqualificare non tanto con speculazioni edilizie per gli appartamenti ma per ridare quel territorio, quel spazio ai cittadini e anche ai bambini. Le scuole medie ed elementari a Ponte d'Era ormai sono scuole vecchie, vetuste, non al passo con i tempi. Quindi con lo sforzo dell'amministrazione comunale, cercando di attingere dove è possibile a fondi europei, cercheremo di ricreare nuovi spazi, nuove scuole per i bambini per permettergli di poter studiare, crescere e apprendere in spazi moderni e adeguati al tempo di oggi. Un altro spazio sicuramente da poter recuperare è quello che era l'ex consorzio agrario, dove anche lì davanti c'è un'altra scuola vetusta, anche quello potrebbe essere uno spazio interessante. Spazi ce ne sono tanti e Ponte d'Era ha bisogno di poter utilizzare questi spazi abbandonati per ripartire e per far ridare una nuova immagine di una città moderna e dinamica, al passo con i tempi. Dove non è possibile l'intervento del Comune noi non ci nascondiamo, cercheremo di creare le sinergie giuste anche con i privati, per creare quella giusta sinergia tra ente pubblico e ente privato, in maniera tale che tutti i cittadini possano veramente avere una città nuova, moderna, a misura di cittadino. L'amministrazione è stata totalmente incompetente in questo campo, mi dispiace dirlo, ma sono i dati di fatto, i negozi storici abbandonano Ponte d'Era, vengono sostituiti temporaneamente da catene, mordi e fuggi, che non rilasciano niente per la città se non qualche piccolo posto di lavoro, ma anche quello in maniera temporanea. Perché? Perché l'amministrazione non ha mai saputo dare una linea guida da seguire, ma è sempre stata buona solamente a fustigare, a puntare il dito contro chi provava a fare impresa. Noi abbiamo una concezione totalmente diversa, per noi il comune deve essere l'amico di chi vuol fare, di chi vuol fare impresa, di chi vuol fare commercio, di chi vuol dare posti di lavoro. Ponte d'Era era famosa in tutta la Toscana per i suoi negozi e deve tornare a esserlo. Come? Noi prevediamo di dare incentivi per chi vorrà prendere fondi sfitti, prevediamo di dare incentivi ai cittadini per venire a fare shopping in Ponte d'Era invece di andare nei centri commerciali. Come? Semplice. Il sabato pomeriggio i cittadini parcheggeranno gratuitamente in Ponte d'Era, così da poter venire senza problemi in centro, fare un bel giro sul nostro corso, fare shopping nei nostri negozi, prendersi un caffè o un aperitivo nei nostri locali. Ponte d'Era deve tornare a essere la perla del commercio per tutta la provincia di Pisa e per tutta la Toscana. Lo sport è un punto fondamentale per noi, perché crediamo tanto nei giovani, nella famiglia e di conseguenza lo sport deve andare di pari passo con questi argomenti. Sarò sincero, è inutile fare promesse faraoniche. Non vi prometterò che si costruirà un mega palazzetto dello sport, perché i bilanci del Comune parlano chiaro. Grandi risorse non ci sono, a meno che arrivi un facoltoso imprenditore e ci doni un palazzetto, benvenga, noi siamo i primi, però bisogna essere anche un po' concreti e reali e sinceri. Quindi, opere da fare. Abbiamo una bella piscina olimpionica. Peccato si può utilizzare solamente nel periodo estivo. Prevedere una copertura per poterla utilizzare anche in altri periodi potrebbe essere sicuramente un percorso da fare e cercheremo di portarla avanti. Il palazzetto dello sport ha bisogno sicuramente di una ristrutturazione e di un adeguamento per permettere anche ad altre attività sportive che sono presenti nella città di poterlo usufruire. Penso a attività come la ginnastica, attività come le arti marziali, tante attività che oggi sono sempre state un po' escluse dall'utilizzo di questo palazzetto. Ma penso anche alla piscina che ormai il nuoto è diventato anche un hobby, un bel passatempo. Secondo me non deve avere un orario prettamente collegato a quello che è l'orario quasi scolastico, con le chiusure pasquali e via dicendo. È assurdo. Ci sono giovani e meno giovani che comunque sia dello sport ne fanno anche uno stile di vita e quindi bisogna permettergli di potersi allenare anche al di fuori dal calendario scolastico. Altro progetto che abbiamo per lo sport è uno sport popolare, ovvero andare a riqualificare quelle aree come il Parco dei Salici, come il Parco delle Fornaci della Rotta con attrezzature sportive all'aperto dove tutti possono utilizzarle gratuitamente per tenersi in forma, dai più piccoli ai più anziani. Contemporaneamente collegando il Parco dei Salici, il Parco Frivale della Rotta attraverso l'argine dell'Arno andiamo a creare un percorso che dalla rotta continuerà verso le colline di Monte Castello e di Treggiaia e si ricongiungerà alla Bellaria, altro polo sportivo di Ponte d'Era per lì riportarsi nuovamente sulle sponde dell'Era e ricollegarsi al Parco dei Salici creando così un anello che sia da attrattiva anche per il turismo, un anello che passa dalle colline, che strizzi l'occhio a quei turisti che gli piace andare in bicicletta, che gli piace vivere la nostra terra, la nostra Toscana, le nostre colline. Ponte d'Era ha tirato Remi in barca perché qui l'amministrazione ha sempre cercato di dire agli imprenditori come dovevano fare gli imprenditori. Ecco, questa è la strada più sbagliata. Noi non dobbiamo dire agli imprenditori come si fanno gli imprenditori, ma bisogna dare gli strumenti agli imprenditori per poter lavorare nella miglior maniera possibile. Prevediamo quindi di stringere rapporti e tavoli con gli imprenditori del territorio e dare la possibilità a grossi gruppi industriali di venire nel nostro territorio. Pensiamo di andare a realizzare una bretella ferroviaria andando a levare lo scalomerci che attualmente è in zona stazione direttamente al chiesino e dal chiesino questo scalomerci, questa ferrovia che arrivi direttamente al porto di Livorno così da poter rendere veramente appetibile tutta la zona industriale fino a Gello per grossi gruppi industriali che possono ridare tanti posti di lavoro. È un progetto realizzabile che sicuramente potrà vedere la partecipazione della regione che il prossimo anno amministreremo e la partecipazione diretta dei gruppi industriali che hanno tutto l'interesse di creare veramente un hub industriale di produzione a livello regionale importante collegato in maniera strategica non con le strade come oggi che l'assessore alla manutenzione ha ben trascurato abbiamo una zona industriale che è un groviera quindi qui veramente dimostra come ha saputo amministrare e fare quello che ha fatto fino a oggi. V-TREM V-TREM V-TREM